Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita Sesta Stagione Sto facendo delle modifiche interessanti al quanto riguarda la qualità video Voglio darvi questo piccolo annuncio, poi iniziamo subito, anzi iniziamo subito il lavoro di oggi poi Ovviamente andando avanti ho perso un'accetta, io avevo un'accetta che attualmente non ho più nell'inventario Che fine le ho fatto fare? Qua non c'è perché ho messo a posto delle cose, magari l'ho cannata da qualche parte Allora per i più attenti, no in verità no perché ho cambiato soltanto alcune cose Ma questo video probabilmente non verrà renderizzato con il nuovo programma Ma dai prossimi video ci sarà il 1080p finalmente perché mi ero rotto i gabasisi far video in 720 Ovviamente non si poteva più andare avanti così, bisogna andare al passo con i tempi So che ci vorrà un po' di più per caricarli, sarà un po' un'altra oglioni però Tento di avvicinarmi, farlo in tempo in quale la qualità, cioè la wifi non è il massimo, la rete internet Tento di stare un po' al passo con i tempi, so che geograficamente non sono molto fortunato Perché qua non c'è la fibra, non c'è la rete veloce Quando sto a Roma sì, infatti riesco a fare delle live però va beh So fondamentalmente ci dobbiamo abbastanza arrangiare Allora ondanzi signori belli, che cosa andiamo a fare oggi? Oggi come avrete visto stare a una zona, andremo a creare appunto questa zona che riguarda i monumenti Anche perché dobbiamo scavare, dobbiamo scavare tanto oggi E scaveremo tanto, infatti mi metterò qui a scavare come i cocainomani affamati dopo un turno di lavoro in miniera Non so se i cocainomani non credo vanno a scavare in miniera, magari dopo una serata quello sì ci può stare La prima cosa da fare sarà appunto spianare, fare questo a livello dell'altro Ci metterò un po', eh penso abbastanza, magari mi aiuto, no TNT non posso utilizzarne Ecco vorrevo scavare anche qui perché so che si allarga e tutto, il resto è figo e va bene Però forse sarà il caso di fare qualcosa di più carino Voglio anche ricreare il bruciatore perché se no con tutta sta roba io non so minimamente che cazzo farci Ora sto andando a buttare tutta la roba in eccesso che mi dà abbastanza fastidio Tipo tutta sta roba qua, sta terra di merda Io ogni tanto vengo qui, butto qua perché despawna dopo 4 minuti non è che ci vale tanto Ora sono andato a prendermi anche un bellissimo secchiello Adesso devo necessariamente aprire qua, fare una cosa del genere, tac Perfetto, oh adesso sono cazzi, sono azzi, sono azzi perché io mi dovrò mettere qui A spam cliccare a bestia, se faccio così e va via infatti non va bene sta cosa Non va per niente bene, non va bene, non va bene Dobbiamo fare una cosa un po' più intelligente adesso perché se l'acqua è profonda Vedete, se io la levo da lì si toglie proprio, non è acqua infinita questa, vi rendete conto che è cafonata Provvederemo a farla adesso Allora, vediamo un po', ho modificato diverse cose, ho fatto tutta sta parte qua Ci vuole parecchio ma non è che ci vuole tanto, basta soltanto mettere nella parte centrale dei blocchi Nella parte centrale voi mettete l'acqua ai lati e l'acqua si espande tranquillamente dappertutto Ora, se noi dovessimo fare una cosa qui invece è un po' più facile Vi faccio vedere, guardate un po', eh Tac, tac, eh no, sono stronzo, devo fare una cosa a 4 Non so perché ogni tanto faccio cose così easy del, proprio easy a Kaiser A cazzo di cane, ovviamente sì Ok, prendiamola lì Ah lì, aspettate, forse non è infinita quel punto d'acqua Volevo comunque farvi vedere che se facciamo una cosa del genere Qui arriva acqua infinita Dovrebbe almeno, credo No, non lo so, eh Aspetta, sto facendo due conti Intanto fammi mettere l'acqua qua Sì, dovrebbe, idea di massima Comunque ci vorrà tipo una vita e mezza per fare ste cose, eh Ma, una volta fatto così No, ok, non viene acqua infinita perché sotto è troppo alto Se fosse stato più basso sarebbe stata acqua infinita Se fosse stato alto 1 Ecco, questo sicuramente sì, son sicuro Penso di aver finito, signori Sta piovendo, ci sono un sacco di persone cattive qui Ma anche una cimile dovremmo aver finito Salvorà... No, non credo Va bene, questa è la zona completata Io sì, è caldo, signori, qua è caldo E... basta Nada de nada? Come sa nada de nada? Eh sì, easy Qua ci volevo fare un altro canale Magari viene qua però Ci penseremo più avanti Questo è quanto per ora Abbiamo... possiamo costruire i creepers Ho voluto andare abbastanza veloce e fare un sacco di tagli Perché questa è una cosa vista in rivista Mettere acqua, togliere Oddio che palle Cioè, è palloso per me che lo faccio Figuratevi per voi che lo vedete Penso sia estremamente noioso Quindi ho detto, ok Sorvoliamo, andiamo veloci E concludiamo il tutto Ok, va bene Fatto questo, adesso Possiamo provvedere comunque ad andare ad illuminare un po' Qua sotto è una parte molto buia Nostra... del nostro mondo Perché, vedete C'è quel coso sopra che blocca anche l'ultima parte di luce Il creeper che poi... ecco Quello è un problema che possono attraversare il ponte Qua per esempio sono invaricabili i canali, no? Sono quindi più sicuri Gli altri no, possono essere attraversati Non che mi freghi tantissimo Per carità Perché poi punteremo a fare una save zone E tutto il resto Però, adesso possiamo anche andare a letto Ora, piccola nota comportamentale Per chi volesse Avere delucidazioni in merito al bug Delle versioni Attualmente sto giocando nella 17v14a Ora, che succede? Se voi... non funziona qua il bug Ma se voi cambiate versione di Snapchat Non succede assolutamente niente Quindi se avete una vanilla vostra E volete... avete aggiornato il mondo Ma volete tornare indietro Quindi... Tornare alla versione precedente Che sarebbe la... Quella in cui i bug funzionano La 13b, per esempio Potete tranquillamente farlo Non succede assolutamente niente E avrete tutto il bel vostro mondo Pieno di bug estremi Tanta tanta roba Ok? Bene, quindi se avete intenzione di farlo Si può tranquillamente fare Non succede niente al mondo State più che tranquilli Ora, tac, tac, tac E poi li mettiamo di qua Eccoli qua Questo sarà il creeper di Smeraldo Ovviamente Volevo iniziare a creare Giusto per le dimensioni La forma Tac, questo va così E poi magari andare a modificare Anche il terreno In base all'aspetto di cazzo Non l'ho preso C'ho il terreno spaccato a merda Vabbè, non che sia un grande problema Anche perché posso prendere Tranquillamente la terra da qui Dato che Prima o poi la leveremo Quindi ci fa sicuramente comodo Prenderne un po' Di terra devo togliere anche questa Perché poi la andremo a sostituire Appunto con del micelio Ahia Ok, facciamo così Si, questa sarà tutta parte Ecco, allora io lo sapevo Che qui faccio il casino più totale Quando mi metto Ma perché spacca troppo Cioè è fotonico Sto piccone con haste Capite che è un disastro totale Allora qui ci va questo E qui ci va questo Ok, perfetto Abbiamo riuso la grande E cioè, vedete È più forte Cioè in scava Questo scava Proprio pesantemente Ma perché c'ha haste 2 Cioè c'ha tutti gli incantesimi Più forti qua Quindi non è che sia Proprio facilissimo Tenerlo a bada Ok, questa comunque È la prima parte del creeper Possiamo comunque girare Ancora qua intorno Dato che gli smeraldi poi Serviranno solamente Per questo Cosa Hop Ecco qua la prima parte Vola di qua E facciamo anche il secondo contorno Poi certo farla tutto Sarà problematico Però li farò sicuramente off camera Dato che avete già visto La prima parte di creazione Di un coso È noiosissima Cioè Ok, una volta ci sta 2 trade Da 2 palle Diventa Ok, allucinogene Stessa cosa La andiamo a fare Di qua con il ferro Bene Completata tutta sta parte Non ci ho messo Per niente Adesso andiamo a prendere Il micelio E la andiamo A impiantare là Dove rivederemo Tirarsi i creeper Secondo me comunque Promette bene sta zona Promette decisamente bene Guardate I cosi mob Che ci sono qua sotto Perché non prendono fuoco Possono tranquillamente Stare là in fuoco Ah, qui non l'ho tolto poi Ah, qua, qua, qua C'è qualche problema Aspettate, aspettate Aspettate Fermi, fermi, fermi Aspettate Tipo Qui Nope Nope, 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 nope Ho cannato la grande E poi non posso più Riprenderla da qua Ci servono fonti d'acqua Infinita Vedete, siamo circondati All'acqua Ma non possiamo prenderla Non è infinita Cosa particolare Eccoci qua signori Ci siamo, eh Pronti a terminare Anche sta parte E dopodiché Potremmo una volta Fini questi Iniziare un nuovo Grande progetto Con diamanti E roba varia O magari pure Tornare a lavorare Su qualcosa di redstone Per esempio Che è parecchio Che manca sul nostro canale Quindi potremmo pensare A qualche meccanismo di redstone Veramente particolare Comunque efficiente Che cazzo mi ha sciottato Stronzi E secondo me Non basta Tutta sta roba Perché Abbiamo utilizzato Ecco poi Se faccio le stronzate Non mi basta sicuramente Ho utilizzato Uno stack E passa Per sta parte Quindi devo fare un'altra E ho meno di uno stack Sicuramente non ci basterà Oddio Abbiamo quasi terminato È tutto Mori Perfetto Questa è completa Ah questa non è completa Per esempio Dobbiamo anche sistemare questo Va bene Ok Farò un altro giro Ovviamente una tecnica Che utilizzeremo adesso Sarà quella proprio Di far espandere Il micelio In tutte le parti Qua vabbè Anche se resta Verde Non mi interessa Può restarci Quanto gli pare Questo Vabbè Vabbè Fotte sega Ci manca qui davanti Una piccola striscetta di terra Dobbiamo soltanto aspettare Questo è già Espanso tutto Perfectly 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 Molto bene ragazzoli Abbiamo fatto un bel lavoro Anche oggi Secondo me Ne valeva la pena Aspettare E fare una roba del genere Buttiamo questi Non ci servono Perché Ovviamente Dovremmo andare a costruire Questi cosi E basta Cioè Ci serve No dico Ci serviva come Punto di riferimento Anche per poi fare Magari allungarlo Comunque vedere Come sarebbe venuto Alla fine Che secondo me È veramente figo Detto questo ragazzoli Consigliatemi Sotto nei commenti Appunto qualche progetto Redstone Da fare Ma proprio particolare Figo Dato che abbiamo Un sacco di risorse Vorrei fare adesso Qualcosa che è difficile Creare proprio Di concetto Di costruzione Voglio fare una cosa Veramente figa Ora poi andremo anche A finire comunque il palazzo Quello là in fondo Che merita Un botto Va bene ragazzoli Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ringrazio Mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se avete fatto Di condividere il video Su facebook Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram E Telegram Diciamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi